Nel 2023 il Veneto assieme al Friuli Venezia Giulia registreranno la crescita del PIL più importante del paese. Nonostante i molti fattori di instabilità che permangono ancora, come la guerra, il costo del denaro, l'inflazione, la siccità, il sistema economico del nord-est ha dimostrato una tenuta inaspettata. Veneto e Friuli Venezia Giulia locomotive d'Italia. Dopo un 2022 da record e il rallentamento della crescita del PIL previsto per l'anno scorso in tutta Europa interesserà anche le nostre regioni del nord-est che comunque continueranno a trainare il paese. A dirlo è l'ufficio studi dell'Associazione Artigiani e Piccoli Imprese Mestre. Secondo la stima le previsioni economiche raccontano che a guidare la crescita dell'Italia dovrebbero essere la Lombardia e tutte le regioni del nord-est. Il primo gradino del podio dovrebbe essere appannaggio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Quasi metà del PIL nazionale si produce dunque nel nuovo triangolo allargato che vede ancora come vertice Milano ma rispetto ai dati storici è previsto un cambiamento. Sull'autostrada A4 Venezia Trieste i tiri in transito sono più numerosi che sull'asse Milano Genova. Ma quali sono i benefici di questo trend per i settori economici e quali le difficoltà che invece ci saranno? Anche nel 2023 i consumi delle famiglie, gli investimenti e la produzione industriale si manterranno su livelli importanti. Le presenze turistiche sono addirittura destinate a toccare i livelli raggiunti prima del covid. A soffrire invece saranno l'edilizia che sconterà la progressiva riduzione dei bonus e l'agricoltura che già adesso soffre tremendamente l'emergenza idrica e la difficoltà di reperire il personale dipendente.